Ciao a tutti! Amici, benvenuti in un nuovo video! Allora, mi vedrete vestito uguale penso anche in un altro video perché li sto registrando stasera e insomma, dato gli impegni sto facendo sempre video di sera ho cambiato la location, ve l'ho detto pure là qua mi vedrete così, qua ci sta la mia enciclopedia che per come io sto a parlare adesso voi capirete che non l'ho mai aperta che bello! vi voglio fare un video che non faccio dal 1903 signore e signori cioè praticamente questo è un tipo di video che a me piace tanto vedere negli altri canali perché lo trovo utilissimo ma per una cosa o per un'altra io non faccio mai in tempo a girarlo e dato che le cose sono tante io vi direi sedetevi e ci facciamo una bella chiacchierata insieme magari cerco di mettere pure ma non mi cascare delle camere io ho capito che è una certa ora però... allora vi voglio parlare come prima cosa di... insomma la roba è stata usata perché la zozzimma la schifezza di come sono zozzi sti cosi metto vergogna pure di farveli vedere allora questo è... che schifo! questo è... no perché praticamente essendo stati nella busta io le ho pure lavati ma tanto cioè facciamo finta di niente è un balsamo mi auguro che lo metta a fuoco della vital care me lo metti a fuoco? ci sei? ok è praticamente un balsamo della vital care è un balsamo naturale la vital care fa dei prodotti pieni pieni di schifezze signore e signore pieni 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 di schifezze però ogni tanto fa pure cose bio senza tante tante schifezze e ci sono lui che è il conditioner, il balsamo e poi ci sta lo shampoo che sto usando in questo periodo allora questo qua che cosa dirvi? io l'ho trovato in offerta a 3 euro a prezzo pieno costa un pochino di più lo ricomprerei? non credo non è male il problema è che per farvi veramente un effetto districante ce ne dovete mettere mezza confezione questo è praticamente con estratti d'avena e camomilla bio senza peg, silicone, coloranti, parabeni, petrolati e senza balsamo perché praticamente sto coso non funziona ma più che altro non è che sia male è che purtroppo io ho i capelli che la paglia diciamo è più districata è un pochino meno crespa ecco e quindi giustamente io ho bisogno di una grande idratazione e questo non gliela fa credo che sia un buon idratante per chi ha i capelli insomma un pochino più grassi che proprio io penso che chi ha i capelli grassi il balsamo lo usa poco però diciamo che è un buon balsamo per chi non ha necessità di cose strong ecco di questo qua io ne ho stendite peste e corna ma io l'ho utilizzato mille 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 volte comprato, ricomprato, sta comprato io mi ci sono trovata sempre molto bene molte persone mi hanno detto ah fa schifo cioè è impossibile che tutti ci trovi bene io mi ci sono trovata molto bene però attenzione sempre in combo con un balsamo che sia quello che sia un altro insomma l'importante è utilizzare un balsamo perché questo qua non districa molto cioè pulisce a fondo ma non districa molto a livello di ingredienti è la fine del mondo questo è quello con i semi di lino se lo ritrovo in offerta al 100% io lo riprendo perché personalmente io mi ci trovo bene pur avendo i capelli abbastanza secchi utilizzato con un buon balsamo si si può utilizzare senza insomma se pensate di comprare quello non abbinarci un balsamo se avete i capelli secchi no perché vi fa un casino enorme altra cosa che a me è piaciuto tanto è il battist su questo non mi dilungo tanto è lo shampoo secco senza acqua classico capelli perfetti in soli 3 minuti questo qua costa lire di dio come si suol dire costa tanto costa tipo 6 euro 7 euro quasi però di quelli che ho provato è in assoluto il migliore quindi è molto meglio di quello fructis per quanto mi riguarda che ho provato pure quello ma non mi è piaciuto e quindi io compro ricompro e stradico sempre questo qua avevo provato pure la confezione quella tipo viola cambia il profumo ma l'effetto è lo stesso quindi what else vabbè ho finito questo detergente per le mani della dermomed queste mani e viso ed è talco iris un'altra profumazione che a me piace tantissimo è quello orchidea e non mi ricordo che cosa questi qua dermomed ragazzi io vi consiglio tutto bagnosciuma così quello diciamo intimo il detergente intimo il detergente per le mani sono dei prodotti economici e sono ottimi e tra l'altro sono senza parabeni poi andiamo sui diciamo sui pezzi forti allora vabbè questo qua Nivea Talk Sensation buono però niente di che questo qua Breeze allora i Breeze sono dei odoranti che io vi consiglio e straconsiglio perché sono buonissimi il problema è che a me questo qua è verde ma fa schifo perché è un profumo che sulla mia pelle proprio non me lo riesco a sentire addosso infatti ci ho messo tipo un anno per finirlo c'è una cosa assurda penso sia stato quello che ho portato più avanti in assoluto perché niente non mi piaceva poi andiamo avanti ho finito un'altra confezione di questo qua che è praticamente il top coat il Mava Dry è un top coat che vi fa asciugare meglio lo smalto molto prima questo è il terzo che ho ricomprato ho finito e l'ho ricomprato e lo sto riutilizzando ve ne parlai nel video degli smalti e funziona benissimo personalmente non mi dà problemi mi permette praticamente di mettere lo smalto metto questo tempo 30 secondi e sto a posto quindi quando andate molto di fretta vi conviene un'altra cosa che vi voglio consigliare sono queste striscette della Dealo io le ho finite ne ho un altro pacco aperto e le sto utilizzando si trovano all'MD al discount io gli davo due soldi perché ho detto vabbè infatti costano due soldi perché costavano tipo un euro in offerta di solito costano parecchio le striscette per il viso quindi ho detto vabbè proviamoli che mi costa non le abbandonerò credo mai più perché sono a parte il fatto che sono molto delicate poi hanno la fragranza di frutti di bosco qui dentro ne escono 10 10 sono pochini però poi fate conto che sono 10 nel senso un lato e un altro quindi vi durano per 20 ceretti al viso ragazze delicate non mi fanno irritazione ottime secondo me sono ottime e al primo strappo portano via tutto praticamente e il mio è tenace ma perché tu ti devi proprio non lo so fare stasfigure proprio poi questo qua praticamente si è seccato era il le linee ringelle della essence sono ottimi questi qua ragazze sono ottimi non so se li fanno ancora non ci ho fatto caso perché sto propendendo per quelli a penne in questo periodo nel senso che faccio più veloce però a me è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto anche tanto negli altri colori quindi nel caso io comunque ve lo consiglio ho finito un'altra matita long lasting della essence io queste qua ve l'ho detto una ne piglia un'altra ne finisco una finisco la riprendo la finisco la riprendo e quindi ok via un'altra signore e signore se è sempre lei ed è finita poi che altro ho finito questo è l'ener qua della Kiko che si trova ancora adesso perché mi pare che questa è proprio collezione permanente è quel tipo di eyeliner che sicuramente avrete visto io l'ho dovuto buttare perché praticamente è quasi cioè più che è finito si è un po' fatta a colla ecco mettiamola così perché era tipo gel inizialmente era un gel un pochino più liquido poi man mano che insomma apri e chiudi entra l'aria praticamente si è fatto un po' come come si fanno gli smalti in un certo senso colloso questo qua non era male però io non ve lo consiglierei perché ha un bel tratto lucido però è difficile da stendere cioè fate un po' di casotto se siete proprio brave 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 è molto buono e poi è carino perché è tipo argentato c'ha delle non so se nella videocamera lo noterete però non è un proprio solo nero c'ha tipo delle pagliuzze argentate dentro è molto carino sulla palpebra quando lo mettete però sono contenta che è finito tanto non mi mancherai ecco ve l'ho detto proprio francamente lui lui è io lo amo e lei love stage è praticamente il la base per ombretto questa sarà almeno la terza che finisco mi piace tantissimo io addirittura lo utilizzo anche come correttore a volte sotto all'occhio perché io non ho grandi occhiaie tengo tutti i difetti nel mondo ma almeno gli occhiai me li hanno risparmiate quindi praticamente a me questo qua piace tantissimo lo compro lo ricompro e lo ricompro e non so se ci sta più perché ho visto che l'hanno sostituito con quell'illuminante io mi auguro che ci sia questo qua base perché se me l'hanno sostituito io vi vengo a pigliare senza ve lo vengo a dire questa qua questa qua sì questo qua è il fondotinta della Bionica l'ho finito mi è piaciuto tanto io vi lascio la mia review da qualche parte nelle schede di questo qua perché sì perché a me piace tanto questo è per le pelli sensibili e indolleranti inizialmente non l'avevo capito mettiamola così nel senso che è molto leggero però è modulabile e poi la cosa bella è che per chi ha veramente la pelle molto secca ed ipersensibile come la mia provatelo questo qua cioè ne vale proprio la pena di provarlo perché costa anche relativamente poco adesso non mi ricordo bene comunque se andate a vedere il video della review la sicuramente lo dico cioè è la formulazione ideale per chi ha una pelle secca però per tutti i giorni per un'uscita insomma dove devi resistere di più o volete una coprenza maggiore non no non 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 fa nel senso che comunque è una coprenza medio medio o me medio bassa ecco sto per finire sto per finire sono gli ultimi due prodotti vabbè il bump voi lo sapete che io lo amo lo stramo lo ricompro lo strari compro da tutta la vita e per tutta la vita io ti amo sappilo pupa bump sappilo l'unico che potrebbe fare concorrenza a questo è il better than sex di too faced non ti offendere ma anche lui ha il suo perché tranne il nome perché cioè ma si può chiamare un mascara better than sex comunque vabbè sono molto simili tra di loro secondo me tra la bump e quello là quindi tra i due non saprei quale scegliere intanto questo qua lo sto ricomprando 80.000 volte ne tengo già un altro aperto e niente e poi ci sta questo eyeliner qua della essence che l'ho finito a me è piaciuto tantissimo è quello lì con questa codina qua praticamente in feltro vedete se è ormai aspirato praticamente non ce ne sta più questo è liquid eyeliner versione waterproof mi pare che abbiano cambiato il packaging ma il tipo diciamo di scovolino è lo stesso io con questo qua mi sono trovata veramente veramente bene e lo consiglio anche a quelle persone che non sono tanto tanto brave a stendere l'eyeliner perché comunque avendo questa puntina qua che non è proprio morbidissima riuscite a gestirla bene e niente ragazzi ho fatto un bordello esagerato su questo letto non so che meglio che non guardate qua voi tanto non riuscite a vedere nemmeno se vi affacciate comunque niente ragazze io spero di avervi fatto compagnia innanzitutto mettetemi un pollicino in su se il video vi è piaciuto ditemi se questa tipologia di video vi piace perché non lo so io ho diversi nuovi iscritti e da tanto tempo che non faccio questa tipologia di video quindi fatemi sapere magari con un pollicino in su se questa tipologia di video vi è piaciuta e niente ragazzi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao